Di Barbara Gagliardi si sono perse le tracce da lunedì mattina, da quando l'impiegata di 46 anni, originaria di Pescara ma residente a Chieti, è uscita per recarsi al lavoro. A denunciare la sua scomparsa i carabinieri è stato il compagno, preoccupato dall'assenza della donna che non era rincasata dal lavoro e non aveva neppure avvisato di un suo eventuale ritardo. Nelle ricerche, attivate dalla prefettura di Pescara, sono impegnate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico, la protezione civile e le associazioni di volontariato, secondo il protocollo attivato in casi in cui si ravvisi un pericolo di vita per la persona scomparsa. Dopo il ritrovamento della Nissan Micra rosso metallizzato della 46N, nel parcheggio dell'eremo di Santo Spirito a Maiella, a Roccamorice, nelle ricerche della donna sono stati impiegati anche i cani molecolari che stanno setacciando i boschi della zona. Nell'auto è stato trovato anche il cellulare della donna. Alta 1,77 m di corporatura robusta e capelli e castani, Barbara Gagliardi è descritta da amici e parenti come una donna tranquilla che non avrebbe mai mostrato segni particolari di inquietudine. Un appello a collaborare nelle ricerche è stato lanciato anche da Alessia Natali, dell'Associazione Penelope. In Abruzzo, al momento dal 74 al 31 dicembre del 2023, le persone scomparse e mai ritrovate risultano essere 1111. Questi sono i dati che semestralmente ci comunica il commissario straordinario del governo per le persone scomparse e con la quale noi, associazione, abbiamo un protocollo di intesa. Per quanto riguarda l'Abruzzo, ultimamente, purtroppo, la provincia di Chieti è quella più interessata. Fino all'ultimo report, la provincia di Chieti era più o meno al terzo posto, con appunto 90 denunce di scomparsa relativi all'anno 2023. Purtroppo quest'anno è ricominciato abbastanza in maniera turbolenta, perché nelle ultime settimane sono state tantissime le scomparsi, a cominciare dalla maestra di ballo a Torino di Sangro, per continuare poi con il signor Tocco scomparso sempre da Chieti e ritrovato vicino allo stadio di Chieti. I due ragazzini scomparsi l'altro giorno e fortunatamente ritrovati nella zona di Francavilla dove loro abitavano. La bimba scomparsa, rapita in realtà da parte della madre, quindi insomma Chieti purtroppo nelle ultime settimane ci sta tenendo parecchio impegnati. Il cittadino cosa può fare in questi casi? Ovviamente le prime cose da fare sono denuncia di scomparsa. Nella maniera più assoluta bisogna attendere 24-48 ore come si credeva inizialmente. Deve essere fatta nell'immediatezza, devono essere dati quanti più dettagli possibili e utili. Specificare se prendeva farmaci di salvavita, se viveva un momento particolarmente fragile, se c'erano delle particolari condizioni che potessero portare la persona ad allontanarsi. Poi ovviamente noi come associazione possiamo intervenire fin da subito perché collaboriamo dal primo istante con le forze dell'ordine e facendo appunto da ponte tra i familiari e le istituzioni e le forze dell'ordine. Quindi il nostro compito è quello di supportare a 360 gradi la famiglia o l'amico che vive il dramma della scomparsa.